Allora, cerchiamo di capire com'è possibile individuare delle responsabilità, lo chiediamo a Domenico Musico, avvocato. Sì, mi hanno contattato i genitori di Noemi quest'estate, mi sono subito attivato perché è stato firmato un decreto dal Presidente Zingaretti per svincolare dei fondi per il risarcimento delle vittime, però la procedura pare che sia abbastanza lunga e ho studiato naturalmente una situazione del tutto eccezionale come questa qua, perché è il primo caso in Italia. Naturalmente l'allerta meteo era stata segnata sul sito della protezione civile in arancione, ma il problema è la comunicazione, cioè non è stata data alcuna comunicazione alla popolazione e il Sindaco con la nuova legge, con una legge del 92, è un funzionario in questo momento della protezione civile, quindi deve dare in tutti i modi, con sms, con diramazioni sui social, in tutti i modi possibili e immaginabili, deve dare comunicazione alla popolazione che in quella fascia oraria non bisogna uscire. Ricordiamo i fatti di Genova quando c'è stata l'inondazione, lì addirittura il Sindaco è finito in carcere. Io non voglio dare delle responsabilità precise perché non sono state ancora accertate in modo definitivo, però c'è proprio un problema che il Sindaco è tenuto a fare tutto il possibile, quindi soprattutto in termini preventivi, quindi di comunicazione alla popolazione che in quel momento non bisogna uscire di casa, perché sta arrivando appunto come diceva giustamente il papà di Noemi, un tornado. Non esiste il caso fortuito in questo caso, in questo caso esistono precise responsabilità di diffusione dell'allerta presso... non basta segnarlo sul sito della protezione civile, perché un cittadino normale non va a consultare i siti della protezione civile. Occorre proprio comunicare dettagliatamente alla popolazione, sta arrivando un tornado. Bisogna stare attenti, bisogna... Ci scusi Avvocato, ma ci dobbiamo collegare con un climatologo. Ce lo vuoi presentare Valentina? Bernardo Gozzini del Laboratorio Lamma del CNR. Salve Bernardo, ha seguito la nostra discussione, si è parlato di tromba d'aria, quella che abbiamo descritto a Fiumicino, secondo lei era prevedibile, era qualcosa di più forte come sostiene il padre di Noemi, cioè un piccolo tornado? Innanzitutto buongiorno a voi e buongiorno a tutti i telespettatori. La differenza fra tromba d'aria e tornado per noi è semplicemente una questione di nome. In Italia le chiamiamo trombe d'aria e tornado le chiamano appunto in America. Non è una questione legata alla potenza. Il fenomeno è identico sia nella sua formazione sia nella sua evoluzione per quanto riguarda i due nomi. Sono fenomeni molto localizzati, molto brevi. Sono fenomeni che hanno un diametro che va dai 500 metri, al massimo possono arrivare a 2 chilometri, non di più, e che durano anche molto poco. Durano appunto, praticamente, quello di Fiumicino è durato quasi un minuto, in America possono durare a 11-15 minuti. E percorrono, diciamo, fanno un percorso di pochi chilometri. Quindi è un fenomeno molto localizzato, molto breve nel tempo e quindi anche di difficile previsione. Ad oggi le previsioni riescono a determinare se esistono le condizioni all'interno appunto dell'atmosfera per lo sviluppo di fenomeni molto intensi, quindi temporali, quindi temporali che possono avere grandinate, che possono avere colpi di vento, ma ancora abbiamo appunto problemi a individuarne la localizzazione e la temporizzazione di questi fenomeni. Ecco, al di là, Gozzini, scusi, al di là di questa cosa che ci ha spiegato per quanto riguarda la possibilità di prevedere o meno, dovremmo abituarci sempre più a fenomeni di questo tipo? Cioè, dobbiamo stare attenti quando usciamo di casa perché potrebbe capitare all'improvviso e sempre con più frequenza? Scusi la domanda che sembra un po' con toni allarmistici, ma bisogna capire un po'. Allora, sicuramente il cambiamento climatico, come diceva appunto il babo di Dino Emi, sicuramente sta incidendo su quello che è il nostro clima e sta cambiando la situazione. Questi fenomeni si creano dallo sconto di due masse d'aria che hanno, diciamo, caratteristiche diverse, spesso e volentieri delle masse d'aria calda e umida nei bassi strati e delle masse d'aria fredda negli alti strati. È chiaro che il cambiamento climatico, creando un maggior riscaldamento appunto di quella che è, diciamo, la temperatura, quindi un aumento delle temperature, aumenta se vogliamo la differenza di temperatura che si viene a creare con queste due masse d'aria e quindi aumenta la potenzialità e l'esplosività di questi fenomeni. No, quello che dicevamo, in realtà il punto del discorso era questo, proprio trovandoci di fronte a dei fenomeni difficili anche da immaginare. Allora forse le allerte andrebbero fatte in maniera più, diciamo, rivolta verso il rischio, no? Quindi se invece di arancione fosse stata rossa, allora questa ragazza sarebbe rimasta a casa. Allora forse è più attenzione su questo, oppure cambiare, perché no, la scala. Ma come dicevo prima, però, allora, cerchiamo di chiarire. È difficile che io possa dire domani alle 11 ci sarà un tornado a Fiumicino. Questa con la previsione ad oggi non è in grado di farla. La previsione ad oggi è in grado di dire che domani a Fiumicino ci può essere una situazione tale che possa dar luogo a dei temporali, temporali anche molto intensi, ma che naturalmente non conosco né, diciamo, la localizzazione precisa né la loro, diciamo, evoluzione. Quindi è difficile poter dire oggi un'allerta rossa per domani quando io ho fenomeni di questo genere che, diciamo, possono avvenire sul mare, non avvenire sulla terra, oppure avvenire in zone dove praticamente non danno nessun tipo di problema, perché come diceva giustamente lei, poi il problema è il rischio e quindi vedere quella che è la vulnerabilità del territorio. Insomma, dobbiamo stare più attenti noi, in qualche modo. Grazie, grazie a Bernardo Gozzini, grazie ai nostri ospiti. Grazie a voi.